Per lottare contro le violenze di genere, ma anche per stimolare una riflessione e un confronto, in particolar modo nei giovani, sulla cultura della non-violenza. La terza edizione del concorso musicale regionale Viola si è conclusa al Teatro Civico Oriana Fallacci di Ozzieri con il concerto e la premiazione. Una selezione promossa dal Centro per la Famiglia Lares, gestito dal Consorzio Territoriale Network Etico del Plus Distretto Sanitario di Ozzieri, Comune Capofila Ozzieri. Presentata da Giacomo Serreli con Claudia Aru, ospite d'onore e testimonial dell'evento, la serata ha visto esibirsi dieci cantanti. Hanno vinto per la categoria cover Stefano Venusti, che si è giudicato il premio in denaro con il brano Man Down di Rihanna, interpretato insieme a Valeria Secchi alla chitarra. E nella sezione brani originali Maurizio Caso con la sua canzone Viola, a cui va un premio a scelta tra l'incisione di una demo e la produzione di un videoclip musicale. Sono state inoltre assegnate menzioni speciali, all'espressività vocale a Giulia Lai, alla migliore vocalità a Valeria Secchi, all'interpretazione del testo all'onora carta e a Mirko Mariani per l'esecuzione. La giuria, presieduta da Ugo Spanu, docente del Conservatorio di Sassari e direttore della Scuola Civica di Musica Monte Acuto, era composta dai docenti Gian Battista Ledda, Ignazio Cino Perra, Maria Teresa Pasta e Antonio De Iara, insieme all'esperto di lingua sarda Cristiano Beciu. E' inoltre intervenuto l'insieme vocale Nova Eufonia, diretto da Vincenzo Cossu.